ho first pick, ho first pick o last pick, mai intermedi, però giochiamo dal lato blu, quindi me lo ho call Come on, I won't hurt you, I promise Chiamiamo un po', vanno loro da un bel po' di tempo A presto, vanno loro da un po' di tempo Grazie a tutti 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 680k e gioco solo questo campione ma quanto ci vuole possiamo cooperare ma difficilmente invaderanno sarebbe più forte un nostro invade Welcome to Summoner's Rift Recuperarmi, ok Mica cattosto di qua però... difficile possiamo fare la stessa cosa di prima lo portiamo fuori ok, 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 ok... Non abbiamo più stanno di sfacere di me Stanniamo prima il gromb e poi al blu Così nel caso in cui dovessimo fare questa saremmo più vicini Così possono agrare in trans E' abbastanza rischiata anche E' abbastanza rischiata anche Perché se ce la siamo matti Ci ammazza Se lo ammazziamo noi prima Quindi guard Molto veloce così nel flue Questo è fatto meglio però Mi è piaciuto il gromb al bruciapelo La bot push e la mild pure Possiamo andare a fare questo qua Questo scatto è un bot Ma anche là in realtà Non c'è un bagno gabbio 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 No c'è un bacno gabbio Non c'è un bacno gabbio E' un bacno gabbio Ah guarda tu quasi guarda Botta pure bella cancami Non si mette questi FANTASY QUESTO FANTASY QUESTO Spottata Possiamo andare in black Però no FANTASY 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 Oh, io voglio farlo più di questo. Eh, eh, eh. Eh, da qui posso far un gancho? no bro no 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 non so chi l'ha dato l'ha dato da parte è bellissimo è bellissimo è bellissimo questi gruots ahah non so quante volte ve lo devo pingare non lo so niente non ve lo pingio dove andiamo? 500 gold prendevo questi forti grandissimi col qui adesso ho sbloccato lo smai come play with me possono fare sì no occhio qua però occhio bro perché loro hanno regalato con questi qui così con la quale vuole con la quale vuole è bellissimo è bellissimo dovevo andare lì ma non ha ragazzo perché c'è un po' di parma ma lì ha perso un po' di parma ma che lo stanno facendo? non lo stanno facendo ok prendere qualcuno bellissimi ulti bellissimi ulti non lo stanno facendo non lo stanno facendo il giro che cosa finna butt un ally ha ha dove andiamo? come play with me Oh no, sono già Oh loco da un muore Il vero è già Nel c'è? No Non lo vabbiamo Io non lo vabbiamo aiutato un botto Se vabbiamo benissimo andare lì Non lo vabbiamo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non era veramente rinchi. Muoio, c'è Fildur da qualche parte, muoio. Perché taggamo? Perché erano finti Minions. Ok. C'era Fildur, me ne devo andare prima. AP AP. XD. Facciamo questi due. Possiamo completare questo dopo. Completiamo questo. Compriamo questo. Avrebbe senso forse la natura subito. La visage. Torna il perro della forte. Possiamo provare. Possiamo provare a trastare Caterina. Andiamo verso il bosco che il Red sta per spawnare. Questo sta diventando un problema. Anche perché ci toglie dal fight. Ci toglie dal fight. Ci ci. che ci toglie dal fight. ma è una nuova ah no, sicuro diga la nuova in grado Siamo ancora andando in botta Fiddle qui Cosa è quella? Di un altro gruppo Ma basta Siamo in gran shot Dio Cristo Fiddle qui Fiddle qui Purtroppo ho fatto una bruttissima rotazione quindi non ci sono quelli draghi. Posso provare a regalarla adesso? Stai reno. Ok, sono ancora le primi torri, non mi sono potesse adesso, quindi sto facendo questa cosa. Non me lo capisco. Vita del top laner. C'è il draghi. Questa qui si deve difendere, dove cazzo siete? Io lo fermo. Vediamo che si può fare, si può contestare. Adesso. Perfetto. 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 bellissima la mia guarda, non neanche ho visto di parlare bellissima tipo 12 secondi un altro tempo che è qui sotto la partita chissà se qua c'è una guarda, però in ogni caso c'è una standard la guarda c'è non vivibile ne ho avancato comprando l'aspetto non 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 è giusto, però è troppo è un po' di minuto, c'è un po' di minuto ma guarderò la prende un po' di rai e la forza nata non ti mancia non ti mancia ma fata, non solo wad era più forte, non ti mancia il livello tu l'abbiamo avuto l'abbiamo avuto tutto l'abbiamo avuto due livelli ho fatto due livelli l'abbiamo avuto possiamo back un big wave facciamo così lentissimo questa visage dove ho la visage non posso vedere più l'abbiamo avuto che non è l'abbiamo avuto adesso il drago tra fuoco è giusto e c'è il protagonista andiamo lì occhio occhio bro guarda ne il drago è giusto volevo clearare tutto sto time ma è giusto il drago andiamo insieme devo guardare la gioia palla verso sopra lei la fa verso sopra il più importante che questo per favore bello bellissimo questo sweeper 20 secondi eh kata dovremmo fare kata ma misfortune che sta facendola ma possiamo fare il drago possiamo fare guarda qui che devono fare devono andare ok ok qui ad extra stat chissà mi ricorderà andiamo a fare questo e lo facciamo questo è un blu che si è giusto non l'ho visto rotto io non vedo non vedo chissà che sai che sai cosa Grazie a tutti. 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 Brutto 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 brut Sì, non è vero. I miei amici hanno di reso di metrano, dobbiamo fare baronze Quanto sono bui in questo momento, ma era una venta o venta Non c'è un po' di carta, non c'è un po' di carta Ma non c'è un po' di carta Questa è la besta Corvano Noi stai facendo un po' di nuovo stavo io Now fare il blu e' un bel giardino e' un po' di più svegliere un po' di più e' 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 un po' di più ... non c'è un'altra Sì, siamo io erano E' qua c'è questa Ma la scioppi E' qua c'è Quindi mi tartò per la spawnata questo qui c'è Ora c'è Ora c'è Ora c'è forse 50 secondi il drago Dovrei già stare a fare ma non ho comunque niente né swivel né pink quindi ritorniamo Qui c'è il drago Il drago è 15 Qu'è il drago è un po' Qu'è il drago è un po' Qu'è il drago è un po' quindi è vero che non è giusto il giusto non è vero mi ha detto non è non è è quello che non è non è Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti